Io non parlo tanto, non faccio considerazioni generali, ovviamente quello che accade è che molto spesso il governo si scollega dalla realtà e a chi invece la affronta, la gestisce in vertenze difficilissime tocca anche avere qualche reazione anche smisurata rispetto alla leggerezza con cui molto spesso sono state affrontate le grandi vicende industriali. Lei è piuttosto polemico in questa intervista alla stampa nei confronti della gestione del Ministero dello Sviluppo Economico da parte di Luigi Di Maio, perché si è sbilanciato, ha fatto promesse che non poteva mantenere, se ho capito bene, le sue dichiarazioni sono queste. Sì, è stata una condotta non solo per Whirlpool, dopo aver bloccato per un anno quasi la vertenza Ilva, si è vantato senza firmare l'accordo di averla risolto in tre mesi e vediamo adesso come è messa la situazione Arcelor Mittal-Ilva. Arcelor Mittal-Ilva ha spiegato che Whirlpool era un successo tutto suo personale, che rientravano le produzioni, tutti i lavoratori sarebbero rientrati e che tutto andava bene, poco dopo Whirlpool ha annunciato a lui stesso la volontà di lasciare il sito di Napoli, lui ha nascosto la notizia per ben due mesi, ha aspettato le elezioni europee e subito dopo le elezioni europee, ha fatto uscire ovviamente la notizia convocando un tavolo sindacale solo dopo appunto le elezioni e ovviamente dopo ha mostrato i muscoli, muscoli dell'Ugola soprattutto perché in realtà ha spiegato che Whirlpool sarebbe rimasta in Italia e che avrebbe fatto di tutto per farla rimanere, che le multinazionali non si devono comportare così e questo aveva raccolto la fiducia di gran parte dei lavoratori, io sentivo i cori che dicevano Di Maio uno di noi, ecco, dopo poco quando però si è ritornati alla realtà e cioè si sono allungati i tempi ma Whirlpool non si è spostata di un millimetro, continua a confermare di voler andare via e però nel frattempo Di Maio ha abbandonato i lavoratori, ha abbandonato il Ministero e passato al Ministero degli Esteri e è chiaro che poi Di Maio sparisce chi si prende i fischi, gli strattoni e gli spintoni è chi comunque ha un compito a un certo punto di dire guardate che la situazione è condito ad andare avanti ma Whirlpool ha deciso di andare via e conferma che abbiamo solo guadagnato del tempo ma in realtà la loro decisione per adesso è abbastanza inesorabile. Ecco, io sono assolutamente sterrefatto di una politica che ancora nel 2020 ha bisogno della menzogna e di raccogliere con illusioni un consenso che serve proprio, soprattutto serve se le scadenze elettorali sono il giorno dopo, non serve ormai neanche più se sono a sei mesi e si è visto quello che è accaduto. Oggi abbiamo 150 avvertenze industriali, moltissime sono del mio settore, la metalmeccanica, si è ritrovato il Ministro Patuanelli, io ho difeso le parole che ha usato il Ministro ma si può dire che sono a filo 5 stelle, mi sembra un po' ridicolo, ma Patuanelli ha detto non abbiamo nessuno strumento normativo in Italia per trattenere e obbligare le aziende a restare, ha detto la verità e quello che invece ha detto Di Maio fino a tutti i mesi prima erano bugie, erano promesse, erano illusioni, bisognerebbe avere anche sempre più cittadini italiani che credono nelle comode bugie e che credono un po' più nell'approfondire le questioni e che le situazioni sono molto complesse, le risposte banali non sono risposte, non sono soluzioni. Grazie.